benvenuti sul canale cuori di tenebre true crimes sono claudia oggi vi porto un altro caso di cronaca nera giapponese esattamente l'omicidio di tsuchida masaichi che era un famoso carisma host tanto che è anche apparso in televisione dove poi dirà delle sue capacità manageriali del suo stile di vita eccetera eccetera lui aveva iniziato a kabuki show e poi si all'epoca possedeva anche un host club nella nell'area di tama esattamente ad hachi oggi per chi di voi non sa che cosa sia un host club è il corrispettivo al maschile di quello che è un host club ossia un locale dove le donne vanno per essere intrattenute da questi bei ragazzi che le coprono di attenzioni e di moine e in questi host club di solito c'è sempre diciamo quello che guadagna di più il preferito tanto appunto che questo tsuchida masaichi era considerato un carisma host e poi lui stesso si dichiarerà imperatore di tokyo ovest tsuchida scompare il 22 di novembre del 2010 e lui diciamo aveva detto agli amici dice se dovessi sparire pensate che mi abbiano ucciso e insomma voleva dire che se lo avessero ucciso non sarebbe stata una cosa di cui meravigliarsi insomma e la moglie ne dichiarerà la scomparsa e la polizia inizierà ad investigare su questo caso solo che la polizia investigando su questo caso si rende conto che questo tsuchida masaichi era una persona abbastanza mal vista egli infatti aveva rapporti con la yakuza alcuni dicono che fosse proprio un membro altri che ha avuto dei rapporti con la yakuza ma aveva diciamo allungato le mani sulle donne della yakuza e quindi era stato punito per questo col taglio del dito anche se facendo l'host non so come abbia avuto tutto questo successo se aveva questa menomazione a meno che non abbia sostituito il dito io voglio anche specificarvi che in questo caso su questo caso ho trovato poco niente in inglese e molto poco in giapponese e tra le altre cose spesso sono cose discordanti tra loro ad ogni modo la polizia inizia ad indagare sul su cosa gli fosse successo insomma e inizia a interrogare amici persone che lo conoscevano eccetera e moltissime persone hanno risposto o qualcosa del tipo era un bastardo oppure il numero delle persone che vorrebbe vederlo morto è di più di tre cifre ossia più di cento persone lo vorrebbero morto insomma si rendono conto che da shinjuku a tama praticamente questo aveva una bruttissima reputazione e la polizia si rende conto che c'erano tantissime troppe persone da magari intervistare vedere seguire perché erano troppe persone che lo volevano far fuori quindi troppe piste troppe indagini troppi controlli a questo punto decide di andare al balikan che è appunto l'host club ad ac oggi che tsuchida aveva ingestione congiunta con un certo genchi e ichiro e da non dalle telecamere delle sicurezze di sicurezza dell'host club ma bensì da quelle diciamo della della strada sulla strada notano che in un determinato giorno appunto credo proprio il 22 tsuchida entra si vede benissimo che entra nello sclub ma non esce e a questo punto ferma sia il cogestore genici sia uno host che lavorava lì ossia un certo abe li porta in caserma dove li interrogano ma questi restano zitti in silenzio e addirittura diranno poi che sono stati picchiati anche per far sì che confessassero qualcosa tuttavia queste due persone rimangono in silenzio perché dicevano il corpo non si trova questi non hanno la prova fisica che sia stato ammazzato non ci possono fare niente tanto che vengono solamente condannati per la distruzione del cellulare e credo sia stato condannato abe per questo quindi la polizia si rende conto che non ha prove fisiche da poter portare davanti a un giudice per aprire un processo solo prove circostanziali e tra l'altro appunto nessuna prova fisica non c'è neanche il cadavere quindi la pressione sulla polizia inizia diciamo a salire però loro continueranno a fare indagini diciamo sotto tono cioè non senza pubblicizzare eccetera e ci impiegheranno due anni e dieci mesi per arrivare ad un risultato infatti la polizia si si era resa conto che non aveva prove però essendo così tanta la gente coinvolta ha pensato bene di dire aspettiamo che tanto prima o poi a qualcuno sfugge qualcosa oppure ci arriva qualche soffiata infatti verranno a sapere che la moglie di Abe aveva portato una valigia oppure un... in Giappone è un portavestiti sapete quando andate a... avete una riunione o qualcosa e dovete magari cambiarvi o dovete partire, dovete avere un vestito elegante eccetera quei sacchi dove si mettono i vestiti ecco non si capisce bene comunque ha portato qualcosa dentro al Balican in più gli arriva anche una telefonata che dice guardate che il corpo che si uccida Masamichi è stato portato a casa di Abe a questo punto la polizia che fa innanzitutto nota che il consumo di acqua a casa di Abe del padre di Abe perché lui viveva col padre e quella che sarebbe poi diventata l'ex moglie era triplicato in quel mese in cui erano avvenuti i fatti inoltre subito dopo la scomparsa di Tsuchida Genchi aveva comprato una grande quantità di soda caustica commerciale a questo punto la polizia va alla casa di Abe e inizia a fare delle ricerche a casa di Abe la polizia inizierà a controllare molto molto bene il bagno e cercano perché a quel punto era venuto il dubbio che magari avessero sciolto il corpo con la soda caustica tuttavia non trovano niente cercano, cercano, cercano e alla fine trovano una vite da 4 mm di lunghezza e questa vite non era stata corrosa dall'acido dagli agenti chimici perché era in titanio ed era una vite per una... quando si fa l'impiantistica quando si impianta un dente ecco, era una di quelle vite e a questo punto partendo da quella vite la polizia ha dovuto vedere se effettivamente Tsuchida Masamichi avesse fatto questo tipo di intervento dentale la polizia siccome sulla vite non c'era nessun tipo di numero seriale niente scopre tuttavia che quel tipo di vite per l'impiantistica dentale era stato venduto in Giappone solo per 599 pezzi a questo punto la polizia che fa si mette in contatto con tutti i dentisti che avevano comprato queste viti finché non hanno trovato quello che gli ha confermato che aveva messo un dente finto a Tsuchida Masamichi a quel punto la polizia ha finalmente la prova che è stato ucciso la polizia quindi procede con gli arresti allora viene arrestato Genchi e Ichiro che era quello che gestiva il Balikan ossia lo Scleb insieme a Tsuchida che al momento della scomparsa aveva 43 anni un amico sempre di Ichiro che sembra abbia procurato loro la pistola l'ex moglie e la sorella minore che però sono state fermate solo perché al corrente dei fatti ma non sembra che poi abbiano avuto ripercussioni o siano state portate in tribunale in più arrestano l'host che lavorava al Balikan e che era già stato arrestato in precedenza con Ichiro ma erano stati entrambe zitti ossia Abe Takuya di 26 anni sua moglie ora ex di 31 anni e il padre di Takuya che ne aveva 59 ad ogni modo diciamo che sono 5 le persone che finiscono davanti ai giudici il processo si apre il 18 di settembre del 2013 tuttavia a dicembre Genici si suicida in cella con un paio di calze prima della fine del processo e dell'emissione della sentenza saranno poi quindi Abe e il padre gli altri testimoni che porteranno alla luce quanto è successo e il perché di questa uccisione ora chi sbaglia paga e giusto così ci sono delle leggi che vanno applicate tuttavia io ho visto anche in molti video molte persone hanno avuto da dire che non avevano nessun tipo di pietà o compassione per la vittima la polizia aveva già immaginato l'assassino è avvenuto all'interno dello scleba da Hachiyoji chiamato il Balikan Succida è andato lì non si sa se è chiamato perché avesse comunque da fare eccetera e all'interno vi erano solamente Eichiro cioè la persona che gestiva con lui l'host club e Abe che era appunto un un host che lavorava lì i due avevano un grande rancore nei confronti di questo Succida e ci sarà anche la testimonianza della moglie che dirà mio marito dice tornava sempre praticamente con il viso gonfio dai cazzotti dalle botte non veniva usato come uno schiavo veniva maltrattato e non aveva mai i giorni di vacanza giorni liberi Abe stesso dirà che quando gli girava male o aveva questi scatti o si faceva uno sbaglio qualcosa Succida non solo gli colpiva pugni ma lo faceva fare a botte con gli altri host oppure gli tirava i microfoni del karaoke che gli portaceneri o lo faceva ballare nudo lo prendevano in giro gli scrivevano sul viso se è uno stupido non vale niente con i pennarelli addirittura gli urinava in testa più e più volte tra le altre cose questo la polizia l'aveva anche scoperto Succida a un giorno che c'era poca gente pochi clienti nel Balican aveva mandato Abe alla stazione a cercare di portare i clienti al locale pratica che è stata proibita dalla polizia e sfortunatamente la polizia l'ha fermato e quindi hanno gli hanno dato una una pena gli hanno praticamente fatto chiudere il negozio non so per quanto tempo e Succida è andato a casa di Abe dicendogli adesso tu mi devi pagare 10 milioni di yen per i danni e poi per rimodernare il negozio in modo poi di riaprire eccetera pagare le spese tra le altre cose anche il co-gestore Genchi aveva un grande rancore nei confronti di Succida perché lui andava e veniva e praticamente non è che lavorasse o fosse presente nel club quando andava era solo per o per prendere soldi o per picchiare qualcuno o qualcosa e prendeva molto più di quella che della parte che gli sarebbe dovuta togliendola a a a Genchi e in più magari gli diceva devi pagare questa multa perché questi non hanno fatto così o questo eccola eccetera e quindi insomma alla lunga si era molto stancato a questo punto quando ha visto che Abe aveva questo problema di questo grande debito in più di come veniva trattato diciamo che è stato Genchi ad organizzare l'uccisione di Tsuchida infatti lui si è procurato la pistola convinto Abe ad ucciderlo e poi dopo gli ha detto poi dopo avrai una parte nel locale insomma praticamente ha fatto fare tutto ad Abe che ha sparato al cuore e poi nell'occhio di Tsuchida uccidendolo dopodiché hanno portato il corpo a casa di suo padre ha smaltito il corpo praticamente diciamo lui è stato la mente e Abe il braccio e comunque ricordiamoci che adesso che vengono fuori tutte queste notizie lui si era già in tribunale lui si era già suicidato e Takuya confessa di aver avuto il corpo di Tsuchida in casa di averlo diciamo cercato di smembrare in più pezzi e poi di scioglierlo con la soda caustica ad uso commerciale che aveva che Genchi aveva procurato e ha messo in pratica aveva anche comprato delle grosse pentole quelle sapete come nei ristoranti quando uno fa il brodo queste cose così dove ha messo i pezzi del cadavere dentro a bollire con l'acqua la soda caustica eccetera però nel mentre ha fatto la moglie ha detto alla moglie dice guarda porta papà a bere pensando che in qualche ora riusciva a dissolvere questo cadavere e invece ha impiegato molto più tempo di quello che immaginava tanto che quando il padre è entrato a casa l'ha trovato in cucina che appunto stava stava bollendo questo questo essere umano questo cadavere il padre all'inizio non sapeva che fare non dice ormai è arrivato a questo punto non ha voluto chiamare la polizia ma ci ha pensato un po' è stato lì poi quando ha visto che la mattina dopo ancora non aveva finito il lavoro cioè ancora stava si è addirittura offerto al figlio dice guarda ti do una mano io e in pratica sono riusciti alla fine a sciogliere tutta la carne le cartilagini gli organi interni li hanno frullati nel mixer e buttati via con con lo scarico del del bagno e le ossa che che erano rimaste ancora intate le hanno fatte tutte a pezzettini e il padre ha detto dice guarda organizziamo un barbecue al fiume ci portiamo ste ossa triturate e facciamo il barbecue così la gioente non sospetta e buttiamo ste ossa nel fiume e quindi alla fine credevano di essersi liberati del tutto e aver compiuto diciamo il diritto perfetto senza però sapere che appunto sto suicida aveva un dente finto e che la la vite in titanio era intatta ed è rimasta nella cisterna dell'acqua all'esserno dove poi verrà recuperata dalla polizia che metterà poi tutti i pezzi del puzzle insieme il padre era abbastanza sconvolto nella deposizione tutto però hanno notato i giudici che praticamente si è comportato così non tanto perché fosse una cattiva persona ma sebbene avrebbe dovuto denunciarlo però ecco essendo suo figlio credo che fosse tra l'altro anche figlio unico non non se l'è sentita e l'ha aiutato quindi gli hanno dato una pena che poi è stata ridotta e non ha fatto tantissimi anni di carcere per quanto riguarda Abe invece è stato condannato a vent'anni di reclusione e con questo finisce il caso di un omicidio quasi perfetto spero sia stato di vostro interesse e fatemi sapere cosa ne pensate in merito siete arrivati fino a qui io vi ringrazio per la gentile attenzione e se vi piacciono questi casi potreste considerare di iscrivervi al canale attivando la campanella in modo da non perdere nessun caso che verrà caricato sul canale e così mi aiutereste anche a farlo crescere nella speranza di vedervi ancora qui per il prossimo caso io vi auguro una bellissima giornata arrivederci ok Grazie.